L'attuale pianificazione regionale in materia di rifiuti considera non strategici e non necessari nuovi impianti di incenerimento in Regione Piemonte, prevedendo la riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati urbani pro capite e l'aumento della raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio. Impegni chiari, precisi, assunti ufficialmente in Consiglio regionale, condivisi dal Presidente Cirio e che lasciano poco spazio a diverse interpretazioni. E che escluderebbe la realizzazione dell'impianto di inceneritore previsto a Cavaglià in zona Valle d'Ora. Tuttavia, per avere un'indicazione ancora più chiara, il consigliere Sasso del Movimento 5 Stelle ha interrogato la Giunta per sapere cosa si stia facendo per far rispettare gli impegni presi con la popolazione della Valle d'Ora e per far rispettare la pianificazione regionale in materia di rifiuti. La risposta dell'assessore all'ambiente Matteo Varnati riferisce che l'impianto proposto a Cavaglià non può configurarsi come una anticipazione di scelte strategiche da effettuarsi da parte del sistema pubblico secondo un percorso lineare, oggettivo e trasparente. Pertanto, non è per nulla chiaro su quali basi l'iter per il rilascio delle autorizzazioni ambientali per l'inceneritore di Cavaglià stia proseguendo il suo percorso con un notevole esborso di risorse pubbliche. Ed ora la parola passa alla provincia di Biella.